La nuova Lancia Tema 3.000 da 240 CV. Le dote dinamiche ci richiamano un po' la cugina, la 300C, dalla quale ha ripreso quasi tutta la parte appunto meccanica. Vi hanno trovato un miglioramento invece nell'aspetto di comfort, migliore in sonorizzazione, migliore assorbimento delle sospensioni. Il motore a 240 CV spinge veramente forte, ma la cosa che ci ha stupito veramente tanto sono gli spazi rilevati di frenata. Spazi molto contenuti sia i 100 all'ora che i 130 classici in autostrada. Per la prova approfondita vi aspettiamo in edicola sul prossimo numero di gente motore.